E' ormai diventato un tormentone l'argomento del giorno più atteso a Grotta Minarda dove i cittadini si chiedono se tra l'assessore al commercio Lucio Lanza e i vigili urbani è pace fatta. Ma da quanto raccontato da Lanza non si intravedono segnali di distensione. Il dialogo avviene oramai a suon di carta bollata. E' la regolamentazione del mercato settimanale a rendere furiose le parti. Ma perché tanto astio? Lunedì scorso invece di risolvere il problema i vigili urbani di Grotta Minarda hanno bleffato andando per ogni commerciante che non era in regola facendo una multina di 50 Euro e hanno continuato a fare vendere a questi commercianti. Senza chiedere né tracciabilità né la provenienza né tutto da questi, ti chiamiamoli commercianti, ma io dico che non sono nemmeno commercianti, sono abusivi perché loro non sono nessuno. Sono gente così che si inventano la sede per la mattina. Ho scritto una lettera al prefetto, ho mandato per conoscenza alla guardia di finanza, ai carabinieri di Grotta Minarda, all'asola di Avellino, alla guardia forestale. Per ognuno e per competenza, se è possibile darmi una mano per risolvere il problema, questo abusivismo a Grotta Minarda ne sono grato. Con il sindaco abbiamo fatto decine di ordini di servizio inerente sempre alla stessa questione e il problema è stato rimasto sempre lì, non è stato fatto. Ma come si spiega? Una scarpa o un paio di scarpe di una certa marca in un negozio di un certo livello costa, faccio un esempio, costa lì 100 Euro, Euro e 100 Euro, si va sotto una bancarella del genere e si paga stessa scarpa, stesso colore, stessa marca e via di sé, costa 35 Euro. Addirittura un vicino urbano, non faccia nome, mi disse un giorno che non mi riconoscevo né da vice sindaco né come assessore al commercio. Figuriamocelo un po' a che punto siamo.